ma vi sentivo la notizia quest'altro giorno come faremo andare avanti adesso cosa succederà all'economia all'immigrazione ai scambi tra i paesi come faremo andare in letto in sto modo abbiamo perso una roba grande la roba di cui gheva bisogno di cui gheva bisogno tutti grazie bad adesso grazie a ti che sarà finalmente un angelo custode che fa il custode magari un fiammassa manesco però è falso lavoro